è sempre piacevole incontrare anime in cerca di qualcosa soprattutto in posti come questo tu saresti? il tuo biglietto per l'uscita da questa vita mediocre mi chiamano diavolo ma tu puoi chiamarmi opportunista opportunista? che cosa vuoi da me? solo un affare la tua anima è in cambio di tutto ciò che hai sempre desiderato credi veramente che vendero la mia anima come in un vecchio film? dai non sottovalutare la potenza delle vecchie storie la vedi tutta questa gente? sono tutte persone che hanno già fatto affari con me cosa c'è di così speciale in questo affare? fama fortuna talento tutto ciò che hai sempre desiderato solamente in cambio della tua anima scusa mi preferisco la mia anima come vuoi ma quando guarderai il mondo fuori dalle tue mediocre finestre e ricordati magari sarò ancora avventura che si sia da sicuro che sia da sicuro e ricordato grazie a tutti ecco 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 ecco